Eccoci qua ragazzi, l'abbiamo incannato, come vedete la tecnica piegata, la carpettina fortunatamente non è quella la, quella la di prima, come la vedete, come potete vedere questa Carpaus qua, oggi amici siamo sul Naviglio Pavese, lo dico oggi non diciamo balle, oggi siamo sul Pavese, è il 17 maggio 2017, ci sono sotto parecchie carpe, siamo in zona in libera, no kill, e stiamo prendendo un po' di carpette, fortunatamente ci sono queste qua piccoline perché almeno così riusciamo anche magari a tirarle fuori, perché altrimenti non saprei, non so proprio come fare a tirare fuori questi pesci qua, ok vediamo se adesso così in scioltezza riusciamo anche a tirarla fuori, codisi, eccola qua, la carpa è piegata, ok la mettiamo giù, tiriamo su un poisson del Nusavonsavec, eccolo qua, vedete, sono carpettine, belle eh, però sono carpe da 12, 18, 22, 13, però dai, adesso facciamo una bella la slamata anche, niente, la slamiamo e gli diamo la libertà, molto violentemente, che così prende il largo, eccola qua, se riusciamo anche a liberarla qualche volta, invece non si libera, questa bastina, va via, eccola, è andata